Buongiorno ai telespettatori di Rossini TV che ci seguono in diretta sul canale 633 oppure anche sempre in diretta ma streaming sul sito www.rossinitv.it oppure sulla nostra pagina Facebook. Ci sono molti modi per interagire con noi, andiamo subito con i contatti, il numero per mandarci dei messaggi o anche dei piccoli video messaggi con Whatsapp è 351 708 9977. Potete anche utilizzare la mail casarossini-rossinitv.it oppure anche commentare sulla pagina Facebook di Rossini TV nella quale è già in onda lo streaming di questa puntata. Siamo a Casa Rossini, oggi come tutti i giorni grandi ospiti nel nostro salotto. Prima di cominciare però ricordiamo come sempre inquadriamo un po' la giornata. Oggi è il 2 dicembre, che mancano 29 giorni alla fine dell'anno, secondo il nostro librone personologi al quale andiamo ogni tanto ad attingere qualche informazione, è il giorno dei giganti. Oggi è la giornata internazionale per l'abolizione della schiavitù. Come sempre queste giornate vengono scelte anche in modo evocativo, facendo riferimento a date importanti del passato. Il 2 dicembre del 49 è la data di approvazione da parte dell'Assemblea Generale della Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione, del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui. La Carta dei diritti dell'uomo, all'articolo 5, vieta espressamente la tratta degli esseri umani. Questo sembrerebbe un tema superato, ecco vediamo l'originale della Carta dei diritti dell'uomo. Invece, secondo fonti europarlamentari, oggi la tratta è particolarmente attiva e coinvolge ogni anno 700.000 persone. Per cui è importante, come non mai, continuare a tenere questi temi ben chiari e ben focalizzati. Per quanto riguarda il santo, oggi il santo ha un nome molto particolare, è Sant'Abbacuc o Abacucco, per cui se c'è qualcuno che si chiama Abacucco o Abacucco sappia che oggi è il suo nomastico. Era l'ottavo dei dodici profeti, sono gli autori dei dodici libri profetici della Bibbia. Adesso, a questo punto, sapete, insomma, che eventualmente questo è il giorno giusto per fare l'onomastico a tutti i vostri amici che si chiamano Abacucco. Passiamo ad alcuni eventi storici del 2 dicembre. Nel 1804, nella cattedrale di Notre-Dame a Parigi, Napoleone Bonaparte si è auto-incoronato alla presenza di Papa Pio VII, imperatore dei francesi. Ricordiamo che, appunto, Napoleone, questo è il momento della auto-incoronazione a imperatore. Nel 1848, evidentemente il 2 dicembre, è un giorno che piace agli imperatori, Francesco Giuseppe I invece è diventato imperatore d'Austria. Francesco Giuseppe I lo ricordiamo soprattutto, ovviamente lo ricordiamo dal punto di vista storico come imperatore d'Austria, ma lo ricordiamo dal punto di vista della cultura comune per essere il marito della famosa principessa Sissi, eccola qua in un quadro, interpretata da Romy Schneider in una serie di film, ecco, vediamo, molto molto apprezzati, molto premiati qualche decennio fa. Nel 1913, siamo ancora dalle parti della cinematografia, la scrittrice Karen Blixen, nome vero era Karen Christiansen Dienesen, baronessa von Blixen Fineke, decide di partire per l'Africa insieme al cugino che è un barone, il barone Bron von Blixen, col quale nel frattempo si era fidanzata, con lo scopo di acquistare una fattoria per vivere lontano dalla civiltà e provare nuove emozioni. È l'inizio di quell'esperienza che l'ha portata a scrivere il romanzo autobiografico La mia Africa, perché ho parlato di cinema, perché nell'85 è uscito il film di Sidney Pollack, interpretato da Mary Streep e Robert Redford, appunto La mia Africa, che immagino gran parte dei telespettatori di Rossini TV abbia visto. Nel 1942, cambiamo molto argomento, progetto Manhattan, sotto le lavanderie Stagfield all'Università di Chicago, un gruppo guidato da Enrico Fermi, che vediamo nella foto, dà il via alla prima reazione nucleare a catena autosostenuta. È il percorso che poi, per capirci, porterà alla realizzazione della bomba atomica. L'evento viene annunciato dal presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt, col messaggio in codice, il navigatore italiano è sbarcato nel nuovo mondo. E infine, nel 1990, la coalizione guidata dal cancelliere Helmut Kohl vince le prime elezioni della Germania, riunificata dopo la caduta del muro del Berlino del 9 novembre del 1989. Questa era una veloce panoramica sugli eventi del passato legati alla giornata di oggi. E adesso, finalmente, cominciamo a conoscere gli ospiti della giornata, partendo e dando il benvenuto a Maurizio Dini, buongiorno, fondatore e titolare di Midor. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Maurizio Dini, anche sempre per cercare qualcosa, è nato il 21 maggio ed è dei gemelli. Ne abbiamo parlato un attimo fa, perché poi alcuni libri dicono che il 21 maggio è il toro, altri dicono, lui ha detto, no, no, non facciamo confusione. Sono sempre stato dei gemelli da quando sono nato. Non mi metto la confusione in testa, non ho già fatto il mio 80. Benissimo. Allora, con Maurizio Dini, tra l'altro il nome vuol dire figlio di Mauro, strana come è, il nome è Maurizio, è un patronimico che vuol dire figlio di Mauro oppure originario della Mauritania. E con Maurizio Dini abbiamo parlato un po' per introdurre, per presentare e per organizzare questa puntata. E devo dire che per organizzare questa puntata, che sostanzialmente, come sempre, ha una durata di 20-25 minuti a ospite, siamo stati al telefono quasi un'ora, perché in effetti di argomenti Maurizio Dini ne ha veramente tanti. è una delle migliori espressioni del territorio, chiariamo subito, per quanto riguarda la produzione industriale, e propone una linea importante che parte dai prodotti detergenti, giusto nel 1982, se non sbaglio. Sì, sì, 82. Ma ampia parecchio poi la portata, vero? Sì, perché è la portata ampia parecchio, perché noi siamo andati un po' facendo un discorso di pulita igiene, però dopo le necessità hanno portato ad approfondire molto. E nel questo approfondimento abbiamo visto che c'era molto traffico in pista, e che in qualche maniera, anche noi eravamo più che dei portatori sani di informazioni, di utilità, eravamo anche dei disturbatori, perché già c'era tanta gente, e ci mettiamo ancora noi, allora abbiamo così valutato cosa era meglio fare, ovvero, come si dice che ha peso, scegliere il minormale per il maggior bene. E abbiamo dedotto che, anche se quella volta non c'era Google, abbiamo dedotto che la gente già da allora incominciava a mancarci un certo vuoto, ovvero quando c'è qualcosa di sporco, di pulito, di igienico, che io devo ottenere, che non riesco a rimuovere una macchia, qualcosa, dove mi rivolgo? I detergenti ne trovo tanti, ma la parte informativa è per risolvere, come risoluzione, dove mi aggrappo? Oggi su Google, ma c'è ancora ben poco, e quindi abbiamo capito sin da allora, come chiama il gruppo dove noi siamo iscritti, la Compagnia delle Opere, che l'annello mancante era, ed è tuttora, quindi non è cambiato nulla in questi 38 anni e passa di attività, è sempre l'applicazione del prodotto, il supporto, la vicinanza a chi utilizza questi prodotti. Per cui, diciamo, antesignani assoluti di quello che sono oggi tutti quelli che vengono definiti tutorial, su YouTube, che spiegano e tutto il resto, voi siete stati i primi a capire che non bastava fornire un buon prodotto, che quella è condizione essenziale e i vostri prodotti hanno sempre perseguito l'eccellenza, non bastava, ma bisognava anche spiegare qual era l'utilizzo ottimale di quel prodotto e come puoi materialmente utilizzarlo. Questa è stata la vostra carta vincente, insomma. Certo, ma antes, prima ancora di spiegare il prodotto, bisogna in qualche maniera sensibilizzare e dialogare con chi lo deve applicare, questo prodotto, ovvero che cosa cerca questo signore? di cos'è che gli manca, cosa deve ottenere e quindi, come sempre, se io adesso parto, devo fare un viaggio, devo andare a Milano, Roma, Torino, un attimino mi organizzo, mi pianifico. Invece, dal punto di vista di igiene, la detergenza, non è mai stata vista facilmente così. Tendenzialmente, sempre visto come una cosa, vabbè, prendo un po' di detergente, uno stracetto, qualcosa e mi metto a pulire, tanto abbiamo gli anticorpi, no? Però poi rimango anche insoddisfatto, c'è anche un benessere emotivo e se noi non stimoliamo chi fa questo lavoro, chi si sente gli ultimi degli ultimi, chi dà i piatti, i pavimenti, eccetera, neanche le maestranze si impegnano e quindi noi abbiamo cominciato a ragionare, prima di tutto dobbiamo cercare di stimolare la pianificazione. Per cui l'olio di gomito, per capirci, non basta più, non basta prendere un prodotto qualunque e cominciare appunto a sfregare o comunque a fare la prima cosa intuitiva che viene in mente, non basta più, bisogna ragionare, pianificare, questa è stata in qualche modo la vostra intuizione e lo è tuttora. Non solo, ma parlavamo di, per esempio, alone macchia, cioè anche la diagnosi, capire di cosa stiamo parlando, perché alle volte la lettura di quello che è il problema. Io ho fatto mia una citazione, l'ho fatta mia talmente tanto che non mi ricordo neanche più da dove l'ho presa, di un protagonista della scena industriale del passato che diceva che la gente non ha bisogno di un trapano, ha bisogno di un buco nel muro. Certo. E' quello che bisogna fare, bisogna andare a risolvere il problema dell'utente, il problema vero che lui ha, è inutile che gli portiamo due casse di prodotti detergenti se poi non li abbiamo comunque, in qualche modo, non abbiamo in qualche modo identificato qual è il suo problema e qual è il problema da risolvere, giusto? Assolutamente, sì, assolutamente questo. E poi un'altra cosa importante, fondamentale da comunicare, da trasmettere, è che tutti mettiamo al primo posto la parte chimica, il detergente. Ma non è assolutamente, quella va all'ultimo posto, come la benzina nella macchina. E quindi, prima di tutto, ci sono una serie di cosi da valutare, anche l'acqua è fondamentale. Prima solvente al mondo, se non valutiamo l'acqua, siamo finiti. E il nostro primo alleato, poi quando noi andiamo a pulire, dobbiamo anche valutare che facciamo una società, ma siamo inconsapevoli. Quindi lo scopo della media è prendere da una certa inconsapevolezza, portare a una certa consapevolezza, perché non si riesce a dialogare, si parlano lingue diverse. Perciò, prima è armonizzare con l'acqua, valutare con che acqua sto utilizzando, cosa mi servirebbe. Poi, i tempi di contatto sono fondamentali, la pandemia oggi ce l'ha dimostrato, perché per lavare le mani puoi prendere qualsiasi disinfettante potente al mondo, ma se me lo lavi, come è stato dimostrato da una certa ricerca, si ingegna e si lava le mani in meno di 5 secondi, e che si fa? Se lei ha fame, gli mi chiamiamo un piatto di pasta asciutto, li facciamo girare così, cosa sente il profumo? Poco altro. Quindi, i tempi di contatto sono fondamentali, prima della parte chimica, l'acqua è fondamentale. L'azione è meccanica, se lava una lavatrice, una lavastoviglia, anche la potenza del motore. Io credo che lei, non so, la lavatrice si la verrà sicura come mia, che è la sua, anche se non lava, no? Lavo, lavo. Allora, mi dica lei la cilindrata della sua lavatrice. Ah, la cilindrata proprio, non la so, quella della macchina la so. Ecco, veda, veda. Quella della macchina e anche della moto, la so. Ma della lavatrice no. Però non so quella della lavatrice, la lavastoviglia, una idropulitrice, una macchina a pavimenti, no? E quindi, anche quella poi fa la differenza, perché lei che va in moto, io penso che una cilindrata inferiore è una più alta, ce l'ha qualche prestazione diversa, no? Certamente, sì. E quindi l'azione è una meccanica fondamentale, l'individuazione dei tipi di sporco, se devo ottenere, o no, appunto, l'alone. A volte lo sguardo, l'olfatto, perché ad esempio, per arrivare a una macchia, se è stata cotta, se è stato un po' di rancido, vuol dire che è stata cotta, e non è che tu insisti, io ho con dei bagni lunghissimi, il sangue, e non è che vai giù con la violenza chimica, servono dei bagni lunghissimi. Ci sono tutte queste sfumature, come la cromatura di lavaggio, come l'autunno. Allora, state prendendo appunti, perché questa è una puntata veramente operativa, e soprattutto il punto chiave è questo. Midor è ovviamente un'azienda che si rivolge anche a tutte le attività produttive, no? Grandi numeri e tutto il resto. Però ci rivolgiamo anche al privato, anche a chi ci sta ascoltando a casa in questo momento, giusto? L'igiene pulita serve a tutti. L'igiene pulita serve a tutti. Sia vivi che i morti, eh? Da scolpire su pietra. L'igiene pulita serve a tutti. Sia vivi che i morti. Segnatela, scrivetela perché... Sia vivi che i morti. Da scolpire su pietra. E prendete appunti perché avete da questo momento, se non lo sapevate già, ma probabilmente lo sapevate già, scoperto che Midor può risolvere anche le vostre esigenze personali. Quelle nelle quali vi state imbattendo anche stamattina, mentre ci ascoltate e magari state facendo le faccende di casa, come si dice, e state pulendo, ma magari senza quella cume importante, che poi si traduce in risparmio di fatica. Ah, ma veri. E poi il benessere emotivo. Dove lo mettiamo? Perché io se fatico tanto, tanto vedo che pulisco un vetro in pavimento, più o meno, ma gli alunni di prima, che sto faticando. Ogni volta ci impegno meno tempo e mi ci applico di meno, no? Invece il piacere, il piacere di avere la soddisfazione, di ottenere un risultato straordinario, oltre che fatico di meno, risparmio tanto, ma tempo, soldi, eccetera, eccetera, ma c'ho anche il grande vantaggio, il benessere emotivo, che sono piacevolmente stanco quando ottengo un bel risultato. Certo. E lo scopo nostro... No, no, dicevo che mi è rimasta la curiosità, cioè riuscirebbe a spiegarmi, a me che non capisco veramente niente, la differenza tra l'alone e la macchia, che mi è rimasta... E beh, certo. L'alone e la sfumatura, che occorre un perfetto risciacquo, che invece siamo sempre veloci nel risciacquo. La macchia occorre, se è una macchia occorre, diciamo, degli ossidanti, canticina, per capirci in termini comuni, e se c'è del grasso con uno sgassante, c'è un po' di classificazione da fare, capito? Poi il bello è che noi dobbiamo soddisfare l'applicatore, quindi dobbiamo dargli l'orgasmo del pulito, perché è una parola che non è intrapesa male, ma l'orgasmo non esiste solo nell'atto sessuale, ma esiste nel lavoro in generale, il benessere emotivo è un gran bel orgasmo, cioè si appaga tutti i sacrifici, la preparazione, l'attesa, la concentrazione, quello, perché se prendiamo così e puliamo, ho detto, non otteniamo i risultati, ed è demotivante, invece noi dobbiamo motivare al risultato successo, e quindi motivare è un'arte anche quella. L'orgasmo del pulito, segnatevelo, ma comunque segniamocelo anche noi, Lo spieghi bene però. No, no, segniamocelo anche noi come creativi per quanto riguarda la pubblicità, perché bisogna che lo usiamo come slogan, l'orgasmo del pulito è il massimo, come slogan di impatto e di effetto. Non so se è il massimo è il minimo, al gusto di nessuno, però invece il risultato trasforma la soddisfazione e si diventa veramente contenti di quello che si è fatto. Tutto questo grazie ai prodotti, ma alla filosofia a questo punto. Sicuramente quella. E i prodotti in che modo supportano questa filosofia e corrispondono a questa filosofia? I prodotti fanno la loro parte, perché l'anello, anche se manca una catena, non funziona, è rotta, non è agganciata. Quindi l'anello mancante è l'applicazione, la conoscenza, la cultura, ma l'azione chimica è fondamentale, perché nella macchina e nella motta se si mette la benzina, è vero che è l'ultima cosa da fare, ma se si mette la benzina non va. Quindi è fondamentale a questo punto la parte chimica, l'azione meccanica, l'azione di lavaggio in generale, ma la parte chimica poi esorge un altro problema, perché è bello ciò che piace, non ciò che è bello, ciò che piace. Quindi noi dobbiamo cercare, per stimolare e motivare, rendere l'applicatore autosufficiente. Quindi bisogna dialogarsi, conversare, includerlo, non escludo, in modo tale che l'applicatore, come dice una certa pubblicità, non deve prendere così è e così mi tocca, e che già subito ti manda in tilt, ma deve essere lui ad organizzare, a strutturare anche la parte chimica, e fare a modo mio, perché anche i suggerimenti sono belli, ma qualcuno dice quanto sono richiesti. Quindi anche noi, e non dobbiamo dare suggerimenti a quello che è a caso, se deve essere lui voglioso di chiedersi qualcosa, allora sì che lo applica. E poi stare a fianco a lui, lavorare assieme, applicare assieme, perché se noi parliamo, come in questo momento, finita la trasmissione, non so quanta roba ci ricordiamo, invece se applichiamo, uno ricorda, visivamente, memoriamente, capito, è tutta un'altra cosa. Questa è la nostra voglia di servire la cittadinanza, servire la comunità. Noi siamo anche in un gruppo importante, non so se si può dire il nome, si chiama Lions, e lì è fondamentale, è proprio lo scopo primario di quello di servire le comunità, perché se non serve, a che serve? Certo. Maurizio Dini, come vedete, è appassionato di quello che fa, ha la sua azienda, bella, solida, consolidata, grande, importante, la sede è a Fermignano, lo ricordiamo, e è un'azienda importante, non è una cosa di quelle realizzate, diciamo, e rimaste piccole come all'inizio, però, come vedete, mantiene questa grande passione, e la mantiene perché ce l'ha dentro come persona, ha sponsorizzato delle squadre di ciclismo, è ancora coinvolto, vero? Certo. Nel mondo del ciclismo, mi raccontava che pedalava con Paolini, per gli anni lì, Paolini, ricordiamo Campione Italiano, ma è il passaggiato domenicale, qualche volta c'era anche lui, perché anche i campioni, una volta andavano in giro in bicicletta così, anche per passatempo, non si allenavano solo in quegli anni, c'era il suo gruppo, c'era un certo giro, c'era un certo interesse, e intanto c'era anche lui con noi. E il ciclismo, che è un altro dei temi del momento, come in qualche modo la pulizia, la pulizia è stata catapultata a tema principale dal Covid, il ciclismo invece è uno dei temi del momento, negli ultimi anni, anche legati al fatto che siamo nel Parco San Bartolo, e tutto il resto, resta una bella passione. Certo, voi siete nel Parco San Bartolo, perché noi partiamo alla provincia di Zona Urbino, non dimentichiamo. E lì che volevo arrivare, allora parliamo di questo introterra, di cui Maurizio Dini si fa grande promotore, questo introterra della provincia, che adesso naturalmente con le restrizioni, possiamo solo in questi giorni, programmare e pianificare, ma che è lì, a un passo, a una pedalata. Beh no, dobbiamo applicare, dobbiamo applicare, in questo momento non si può andare tra i comuni, non ci si può muovere da un'altra. E poi la pesa, non ci avete i comuni, ci avete tante montagne qui, queste colline, basta uscire, respirare l'aria, respirare l'aria, noi adesso ci concentriamo molto, perché la pandemia ci ha dimostrato che è importante sanificare anche le vie respiratorie, anche qui potremmo parlare di un bel orgasmo respiratorio, anche, perché se andiamo su una bella collina, e poi più che possiamo andare, comunque avere quest'aria fresca, che incoincia avere sempre più ozono, lozono è un grande disinfettante, sentiamo proprio il benessere, ci dà la dipendenza, questo è importante, è importante mettercelo bene in testa, perché, dicevo, non so se è importante dire, comunque è fondamentale, credo dire, che noi non ci rendiamo conto, siamo attenti, accorti ad andare a selezionare il cibo che mangiamo, perché abbiamo paura di tante cose, tante malattie, vedere se c'è il conservante o non, però dobbiamo sapere che ne consumiamo, a malapena il 10% dell'aria, perché consumiamo tra un chilo e due chili di cibo al giorno, quanto dell'aria consumiamo 10-15 kg al giorno, dopo dipende su una fattività fisica o meno, e respiriamo circa 23 mila volte, io credo, per quanto siamo bravi, anche qui a avere l'orgasmo culinario, non credo che facciamo 23 mila esercizi di faccia, dentale e respirazione è fondamentale, dobbiamo sanificarci, quindi uscire da peso, avete anche una nuova zona, quella di Montecicardo, lì è entrato, l'avete faticato tanto per portarlo, non ci andate a passeggiare? Infatti no, va fatto, adesso chiaramente i comuni grandi sono privilegiati, perché hanno un po' più di territorio, quelli più piccoli hanno un po' meno spazio, in questo periodo, ma speriamo che passi presto, poi per cui ritorneremo a scoprire bene tutto quanto, il legame di Midor con il territorio, per esempio, si concretizza anche, oltre a questa sponsorizzazione di questo In Bici Top Challenge del 2016, con l'iniziativa delle borracce, 250 borracce donate ai bambini delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Fermignano, con un contributo del Comune, per cui c'è anche una collaborazione molto forte con la realtà amministrativa del Comune, si sente così parte della comunità? Viviamo lì, noi siamo parte integrata del Comune, qui vediamo anche la presentazione, perché si pensa anche al futuro, è un'altra iniziativa, la presentazione del calendario, dedicato ai luoghi particolari del vostro territorio, giusto? Scusa, abbiamo un ponte, è rientrato tra i primi 30 d'Italia, quindi è giusto enunciarlo sempre meglio, aiutarlo, pomparlo, perché è tutto turismo, ma è qualcosa di straordinario, quello è un ponte, è una vita che c'è lì, non cade, il cemento armato, avete visto come cadono? 40-50 anni da demolire? Esatto, quelli invece, insomma, hanno una bella resistenza. Quelli non hanno usato la testa, hanno usato l'arte, voglio dire, è proprio, no? Il primi anno è in fondo la città degli artisti, quindi anche il ponte, la torre, è una cosa stupenda, meravigliosa, che regge nel tempo, quindi è fatta con arte, veramente. Allora, ci sono dei messaggi da casa, qualcosa, no? Allora, chiedo io, una cosa che potrebbe arrivare da casa, dove troviamo i prodotti Midor? Li troviamo, adesso anche nei supermercati, ma li stiamo introducendo, sedi di più in farmacia, perché siamo molti sensibili al territorio, quindi in farmacia mettiamo dei prodotti, non solo ecocompatibili, ma proprio ispirati dalla natura. E poi li troviamo, tutti quelli che hanno professionisti, abbiamo un rapporto molto stretto, abbiamo circa 15.000 clienti attivi, perciò c'è una grossa interfaccia con questa gente qui, perché noi siamo operativi, e siamo vicini agli applicatori, siamo di supporto, vogliamo essere utili, unici e indispensabili, non è che portiamo, proponiamo cose superflie, ma è qualcosa che ci chiedono loro applicatori. Perciò si trova. Se avessimo bisogno appunto di queste famose consulenze, come ci possiamo muovere? Basta fare in azienda, abbiamo le commerce, abbiamo un servizio proprio di rapporto con la clientela, che stiamo potenziando, migliorando, integrando sempre di più, con la digitalizzazione, oggi è molto facile raggiungersi. Basta che ci interpellate ovunque, trovate tutto. Perfetto. Allora, mi raccomando, non vi dimenticate di interpellare Midor per qualunque problema legato alla... Conversazione. Una conversazione. Una conversazione, perché poi dopo, se c'è dei benefici, li sfrutteranno, se no qualcosa hanno riflettuto, quindi sempre, con niente non si va mai via. Allora, ci siamo tenuti per l'ultima parte, qualcosa sulla quale, probabilmente torneremo, come Rossini TV, con un approfondimento e addirittura forse una puntata dedicata, o comunque uno speciale, che è questa idea dell'aria del furlo. Abbiamo anche un po' invaso il tavolo qua, con dei diffusori, con appunto delle essenze, è stato comunque anche già anticipato, abbiamo visto prima delle immagini di una conferenza, vediamo anche immagini da vicino, dei prodotti. Qual è quest'idea? Il furlo, perché il furlo, e soprattutto qual è quest'idea di portare anche in altre zone l'aria del furlo? Certo, perché il furlo, innanzitutto, è il passo più basso del tutto l'Apennino d'Italia, siamo fino a 180 metri circa. Il furlo poi è meraviglioso, è molto salutistico, si parte da quei 180 metri circa, si arriva in cima, intorno a 1000, a 1980, a 1000, dove c'è una natura incontaminata, è bella, e man mano che si va su, si ossigena. Si ossigena, è la prima cosa che serve durante la pandemia, quindi serve ad attirare l'attenzione alla gente, cos'è fondamentale, curare, che in genere non ci si riflette molto, che appunto le vie respiratorie. E siccome però, per negligenza, per mancanza di tempo, per tante cose, non si riesce sempre andare, uscire dalle case, andare in queste colline, montagne, al nostro attorno, allora noi abbiamo pensato di, piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Quindi intanto portare quest'area, ovunque uno la vuole, dentro le case, le abitazioni, incominciare a riflettere, a vedere, incominciare ad assaggiare i benefici. Poi, fatto il primo passo, speriamo che lì venga anche il secondo, quello di andarci proprio, prima più possibile. Come noi di estate veniamo al mare, voi perché non dovete anche voi contraccambiare, no? Certo. C'è un dare viene, no? Certo, certo. Autunno, inverno, vite su, abbiamo un fogliasco meraviglioso, una cromatura di colori, in cima al Paganuccio, e in cima anche il Pietralata di Fermiano, perché noi siamo partecipi al furlo, perché il comune di Fermiano, la galleria, quella antica, la vecchia, è del comune di Fermiano, quindi noi siamo parte integrante, oltre che vicini, e quindi è bello, con le mountain bike, a pieti, è qualcosa veramente da frequentare, da approfondire, perché è salutistico, il furlo è salutistico, l'aria è intoccabile, quindi dobbiamo creare il bisogno, l'esigenza, ecco perché ci stiamo, e ci siamo concentrati in questo progetto, che più di un anno, due, che ci lavoriamo, non è un giorno così, che si arrivi in 448, adesso prima di Natale, siamo pronti a divulgarlo al 100%. Allora, io sono convinto, che i nostri telespettatori, siano tutti stati al furlo, però voglio ricordare, se ci fosse qualcuno, che non ci è ancora andato, che è uno dei posti, più suggestivi, più belli in assoluto, da piccoli, spesso con la famiglia, con il babbo, con la mamma, con i fratelli, si andava, perché all'epoca, era più facile fare la gitarella, piuttosto che fare il grande viaggio, invece in questi ultimi anni, magari siamo andati a scoprire, i soborghi di Los Angeles, però al furlo, non ci siamo mai passati, anche perché, da non so più quanti anni, forse una quarantina, trentina, quarantina d'anni, il furlo, che originariamente, era via obbligata, per andare da Pesaro a Roma, è stato bypassato, per i primi pratici, da una galleria, un traforo nuovo, importante, con due bocche, una ad entrata, cioè una ad andare, una a tornare, per cui diciamo che, all'inizio era una, sì sì, me lo ricordo bene, però diciamo che, è molto più pratico, andarci passando per la superstrada, ma in questo modo, si perde completamente, l'emozione e l'esperienza del furlo, che diventa però, e recupera uno spazio, come posso dire, di destinazione, a quel punto, non ci passiamo più, mentre andiamo a Roma, se volete, ma andiamoci apposta, e questo lo sanno bene, i motociclisti, lo sanno bene i ciclisti, lo sanno anche bene, gli automobilisti, lo sanno bene un po' tutti, però magari rischiano di dimenticarselo, e invece, io voglio proprio ricordarlo, e caldeggiare, questo, che è uno dei posti più belli, e vicinissimi, alla nostra città, alla città di Fano, insomma, si arriva in un attimo, veramente in un attimo, prima di quanto uno si possa immaginare, anzi, se uno ha programmato, una giornata intera, poi si ritrova e dice, sono già arrivato, adesso che la faccio, in realtà lì c'è tanto da fare, perché poi c'è da camminare, da salire, ci sono escursioni da fare, però, se preferite, dopo che siete andati lì, tornare a casa, e mantenere questa idea, dell'area del furlo, oltre a metterla dentro una borraccia, magari respirarla, quando tornate a casa, che è già buono, però c'è tutto invece, una linea di prodotti, che nascono da questo, verde furlo, e in cosa consistono, io qua vedo che ci sono un po' di cose, ne parliamo bene la prossima volta, non basta qualche attimo, è una linea di prodotti, ma soprattutto che devi evocare, ricorda la natura, richiama la natura, e ti deve far concentrare, cosa è veramente utile, andare al furlo, le parla a parte, che si può andare anche con i cavalli, perché sono un volontario, di accheverde a cavallo, e le accheverde fanno tanto bene al territorio, perché cerchiamo di sensibilizzare la gente, a non gettare, a non sprecare, a non buttare, e a ripristina dei sentieri, quest'anno è l'anno del turismo lento, e quindi io personalmente sono impegnato, lassù nel monte Pietralata, a ritenere in vita questi sentieri, che così si può andare con le famiglie, con cane, bambini, quant'altro, e poi il furlo, dobbiamo ricordarlo, che nessuno forse lo sa bene, che è stato classificato dalla spenda della rivista, l'ottavo keniano al mondo, si parla del primo e secondo in Europa, quindi c'è qualcosa di importante, poi se il numerino corrisponde bene, siamo lì, non è quello che dice, capito? Certo. però nessuno lo sa, andiamo a vedere, come dice lei, in tutto il campo al mondo, non andiamo ad ossigenarci nel nostro, più o meno territorio, perché intanto, siamo presi anche di peso, è urbino, ma comunque diciamo anche di peso, siamo lì, siamo lì, siamo lì, fa parte veramente, è una passeggiata, bene, allora, abbiamo concluso la nostra passeggiata invece, di stamattina, con Maurizio Dini, che abbiamo conosciuto, e speriamo di aver fatto conoscere anche ai nostri telespettatori, attraverso di lui abbiamo fatto conoscere i suoi prodotti, abbiamo dato questa anticipazione, un po' misteriosa, su quello che sarà una presentazione più approfondita, fondamentale, di questo prodotto, importantissimo, è una linea culturale, esatto, è una linea culturale, tra l'altro appena arrivati dalla regia hanno detto, ah questo lo conosco, questa essenza qui, la voglio, la voglio, perché è quella che spargiamo, per cui è già un'area che noi sentiamo, perché noi siamo dei privilegiati, ovviamente, essendo Midor uno degli amici di Rossini TV, siamo privilegiati per quanto riguarda le novità sui prodotti, e ce ne vantiamo, e a questo punto ringraziamo Maurizio Dini per essere stato con noi, c'è una dedica, ah c'è una dedica, meno male, perché dopo la pubblicità, ricordiamo che di solito noi mettiamo anche una canzone, nel momento tra pubblicità e canzone, cambiamo ospite, e poi dopo ricordiamo che sarà con noi Eleonora Raffaelli di Jolly Casa, e poi a concludere Antonino Di Gregorio che ci parlerà di libri da leggere e da regalare, ma c'è questa dedica, Allegra portami questa dedica, che la leggiamo su una canzone a cui io tengo molto, buongiorno Casa Rossini, sono gentili, sempre molto gentili i nostri dedicatori, volevo congratularmi con Anna che da poco si è laureata in design dell'arredamento, brava Anna, brava, complimenti, la canzone che ti dedichiamo è una canzone a cui io tengo molto, io ho una famiglia che io scherzosamente definisco un po' invadente, nel senso che facciamo un sacco di cose, mio padre e Carlo lo conoscono un po' tutti, ma ho anche due fratelli molto attivi, ho un nipote, anzi due, lo stesso molto attivi, una che presto lo diventerà, insomma siamo un po' invadenti, comunque Davide Pagnini è cantautore, l'abbiamo scelto per un video, che sceglieremo anche se non fosse mio nipote, dico la verità, perché è una bellissima canzone, si chiama Esseri liberi, la proponiamo dopo la pubblicità, e poi torniamo in studio, restate con noi, perché torniamo in studio con Eleonora Raffelli, grazie Maurizio Dini. Posso inserire una cosa, visto che ho parlato di canzone, dato che stamattina con la Midor abbiamo fatto una conversazione, soprattutto abbiamo dato qualche input, e noi tra le varie cose, per ottenere un risultato in allegria, abbiamo anche la divisione musicale, perché con la musica, lei mi insegna che si comunica tanto, si fa divertire possibilmente, abbiamo proprio la divisione musicale della Midor Band, e a proposito del territorio, noi stiamo lanciando la canzone Marche Marche, dallo stesso, perché il nostro responsabile della divisione musicale, è colui che ha lanciato nel mondo Romagna Mia, quindi è partita questa sfida, che adesso, forse prima, al fin dell'anno, la lanciamo alla grande, dallo stesso cantante, che ha lanciato nel mondo Romagna Mia, adesso è diventato Fermi Agnese, è Gardo Celli, ed è responsabile della divisione musicale Midor Band, e lanciamo questa canzone Marche Marche, con lo stesso waltzer, tipo quella della Romagna Mia, e dobbiamo fare sfida aperta, dove si dirà che Le Marche è la più bella regione d'Italia. Molto bene. Dobbiamo sfigliare i nostri amici romagnoli. L'aspettiamo in anteprima, perché la vogliamo presentare noi di Rossini TV in anteprima. Con piacere. Allora, grazie a Vassalini, grazie a tutti voi, restate con noi, a tutti i teri spettatori, buona giornata. E ci vediamo fra un po'. Grazie. Devo leggerti nel DNA, di un cromosoma ci si può affidare, voglio correre nell'aldilà, e avere un buon motivo per tornare, come fanno i vecchi marinai, sempre una storia pronta da raccontare. Chi se ne frega se ci crederai, è meglio credere che non capire. Le connessioni delle novità, nuovi modi per interagire, ti mando un bacio, spero arriverà, gli do una spinta con un soffio virtuale, ci vuole fegato, ci vuole spirito, uno si trapianta, l'altro no. E allora presto alla ricerca di un impavido, che mi sappia insegnare quello che già so. Sogni elettrici che danzano sul beat, molli scontati da Bologna al Guatemala, tocco il fondo proprio come Moby Dick, e poi ritorno sopra la mia barca a vela. Siamo esseri liberi, liberi di essere liberi, esseri liberi, liberi di essere liberi, Siamo esseri liberi, liberi di essere liberi, esseri liberi, liberi di essere liberi, non ti vedo mai dormire, ma così ti perdi tutti i sogni amore, i sogni fanno bene alla realtà, Non li sottovalutare Ti si accorta che alleniamo solo il fisico E la testa solo quando stiamo male Io lo so che noi viviamo sempre in bilico Ma la storia la facciamo per cambiare Sogni elettrici che danzano sul beat Voli scontati da Bologna al Guatemala Tocco il fondo proprio come Moby Dick E poi ritorno sopra la mia barca a vela Siamo esseri liberi Liberi di essere liberi Siamo esseri liberi Liberi di essere liberi Esseri liberi Liberi di essere liberi Taffiamo auto e ci può stare Compriamo abiti e ci può stare Tentiamo fughe e ci può stare Proviamo a stare e ci può stare Impariamo lingue per andare lontano Ci sentiamo soli poi alla fine torniamo Sappiamo dire addio Ma non sappiamo dire Ti amo Siamo esseri liberi Liberi di essere liberi Esseri liberi Liberi di essere liberi Siamo esseri liberi Liberi di essere liberi Esseri liberi Liberi di essere liberi Eccoci, eccoci rientrati in studio, ve l'avevamo già preannunciato prima della introduzione pubblicitaria e musicale, siamo di nuovo qua e questa volta siamo con Eleonora Raffaelli, socio e responsabile della comunicazione e del front office di Jolly Casa. Ciao Eleonora, benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno Paolo, grazie per averci invitati, parlo al plurale anche se sono chiaramente fisicamente sola, però ecco faccio da portavoce per la Jolly Casa e per tutto il team, per cui grazie mille per essere qua. Un vero team quello di Jolly Casa, abbiamo parlato a conoscerlo, naturalmente parlo riferendomi ai telespettatori che un po' vi conoscono, perché naturalmente anche in questo caso Jolly Casa è amica di Rossini TV, per cui vi conosciamo attraverso gli speciali, attraverso in qualche modo dei riferimenti che passano su Rossini TV, ma vogliamo conoscervi un po' meglio, ed è per quello che abbiamo chiamato tu, ti abbiamo chiamato qua e vogliamo conoscere un po' sia te che l'azienda. Per conoscere te una delle cose più curiose è che sono andata a vedere la data di nascita e ho scoperto che hai una data di nascita molto molto importante e evocativa, sei nata il 22 giugno. Ebbene sì, il 22 giugno. Perché è molto importante e evocativa? Perché anche io sono nata il 22 giugno, per cui per essere chiari, Io e Leonora siamo coetanei. Esatto, sì, adesso non guardiamo i giorni di differenza, però i giorni, gli anni. Qualche anno così, ma poca roba, insomma. Poca, poca cosa. Allora, vediamo un po', è il giorno dell'esaltazione romantica, dice il mio librone, io qui ho questo librone che ogni tanto vado a prendere quando ho voglia di arrivare fino là, perché è un librone veramente importante, il giorno dell'esaltazione romantica. I nati il 22 giugno prendono la vita come un romanzo, un'avventura. Sono attratti dalla rappresentazione della vita e raramente riescono a resistere alla tentazione di un viaggio entusiasmante, di una situazione intrigante, di una storia d'amore nascosta. Poi dopo qui continua a dismisura, nati oggi Giuseppe Mazzini, Meryl Streep, Billy Wilder. Se ti interessa, romantico, sensibile, fantasioso sono i pregi. Sì, ci sta. Beh, tanto ci sono. Infantile, poco realistico e dominatore. Dai, ce n'ho tanti altri. Io non mi dico se non ci ritrovi in tutti e tre, ma insomma ci siamo dalle parti. Eleonora vuol dire donna compassionevole, se andiamo sull'origine greca, mentre vuol dire dall'arabo Dio è la mia luce. Scegli tu qual è il significato che ti piace di più e adesso cominciamo a entrare nel vivo, perché Jolly Casa, International Jolly Casa, mi è piaciuto molto nel video che hai fatto anche una spiegazione del nome. Jolly Casa è il Jolly della casa, non è un nome qualunque inventato perché Jolly è una parola che va bene per tutto, ma è proprio il Jolly della casa. Perché il Jolly della casa? Allora, il Jolly della casa, innanzitutto diciamo che Jolly Casa ha la mia età, perché i miei genitori hanno deciso di festeggiare il 1987 in modo originale e particolare, creando appunto questa azienda, questa bella realtà. e la mission dei miei genitori è sempre stata quella di dare delle soluzioni personalizzate alle famiglie. E il nome prende proprio questo, vuol dire diciamo diventare il Jolly di ogni famiglia, migliorando la qualità della vita ogni giorno. E quindi ecco, Jolly Casa, essere un po' il Jolly, essere presenti e dare un aiuto, un supporto, una miglioria. E per essere i Jolly della casa ci sono diverse linee, diciamo da seguire, diversi filoni, diversi filoni di prodotto. Io qui mi sono segnato soluzioni, perché il Jolly Casa propone delle soluzioni, problemi legati al relax, per cui abbiamo le poltrone, si sono intraviste un attimo fa, mobilità, per cui abbiamo un discorso sui mezzi elettrici, sui montascale, che sono un altro tema molto importante, riposo, letti e materassi di ogni tipo per riposare serenamente, e la novità invece dell'ozono, che arriva in qualche modo in questo periodo anche molto favorita dal discorso del Covid, che ha richiesto, come abbiamo sentito prima anche da Dini, un'attenzione speciale nei confronti della detergenza e dell'igienizzazione, ma che aiuta l'ozono a fare questa cosa che è impalpabile, cioè purificare l'aria, no? Sanificare, esatto. Da dove partiamo? Allora, da dove partiamo? Io partirei dalla donazione che abbiamo voluto fare, un piccolo grande gesto che abbiamo voluto fare l'8 aprile, appunto del 2020, al nostro comune, perché noi siamo sempre stati a Calcinelli, di Coglielmetauro, adesso Coglielmetauro, però abbiamo voluto fare questo gesto, cioè donare due dispositivi di sanificazione, appunto un generatore di ozono e il sanivapor, per la sanificazione di ambienti e mezzi. Per cui abbiamo, diciamo, siamo un po' stati travolti da un periodo storico difficile, strano, un po' ancora misterioso, ecco, diciamo così, e quindi un po' tutti ci siamo dovuti reinventare, tirarci sulle maniche, cercare di capire un po' ecco come camminare e quindi diciamo che la sanificazione è sempre stata importante, perché Jolly Casa da sempre opera a livello nazionale e oltre a interfacciarsi al privato, da sempre si rivolge anche al diverso dal privato, come lo chiamo io, per cui strutture, ospedali, case di riposo, cliniche, studi fisioterapici, quindi in realtà la sanificazione è sempre stata importante. Chiaramente la sanificazione magari prima si guardava più che altro all'oggetto, alla superficie, alle cose che andiamo a toccare, il paziente tocca al cliente, però l'aria come la sanifichiamo? Perché è qui il punto, perché questo nuovo virus che ci ha travolti è un virus che rimane nell'aria, per cui bene la maniglia, il mobile, la porta, la reception, il lettino mi viene in mente, però è l'aria che è fondamentale andare a pulire e per cui di qui appunto generatore di ozono, che comunque è stato riconosciuto nel 1996 dal Ministero della Salute come il migliore sterilizzatore naturale, è chiaro che poi per questo nuovo virus ancora ci sono degli studi per cui giustamente nessuno può dire magari se ci fosse stata diciamo un protocollo probabilmente staremo già meglio o comunque ci sarebbero già state delle soluzioni magari, ecco, come dire, utilizzate questo e andrà tutto bene. Diciamo che siamo anche in questo caso dalle parti delle precauzioni, cioè una volta per sanificare l'aria mi veniva in mente apri la finestra, ed erano fortunati quelli che aprendo la finestra potevano fare entrare l'aria pulita perché quelli che magari vivevano su una strada di grande transito apriva la finestra e peggiorava la situazione. Adesso invece diciamo che si tenta attraverso queste attrezzature di fare quella che è una precauzione, un po' come il discorso della mascherina, cioè sono tutte cose che tendono a cautelarci da un rischio che ancora è, appunto, come hai detto bene, misterioso perché altrimenti sentiremo voci univoche anche da parte dei medici mentre ne sentiamo anche diverse da loro, per cui evidentemente è misterioso per loro, figuriamoci per noi, però diciamo che ci proviamo. Ci proviamo, sì, più che altro secondo me, secondo noi, penso che unire le competenze, le conoscenze possa far sì che magari, io dico sempre, l'unione fa la forza, per cui io lo penso un po' in tutti gli aspetti, sia lavorativi che non lavorativi, per cui l'obiettivo è quello di andare a unire un po' il know-out, un po' di tutti, i prodotti che possono aiutare e cercare di andare a, soprattutto in questo periodo storico, a quantomeno arginare un qualcosa che, ecco, altrimenti, insomma, già ha preso abbastanza sopravvento, per cui... Infatti, questo è un po' anche il messaggio che vogliamo far arrivare a casa, perché naturalmente noi abbiamo un pubblico di privati a casa e ai privati a casa cosa raccontiamo? Per esempio questo dello zono, è un'attrezzatura acquistabile anche privatamente oppure è prevista solo per i grandi spazi, per le aziende, per, che ne so, per i ristoranti, per i luoghi pubblici o cose del genere, oppure anche il privato può acquistarlo, ce n'è uno a misura, funziona, ecco, com'è la situazione? Ok, allora diciamo che il generatore di ozono è prevalentemente utilizzato diverso da privato, quindi appunto da mezzi sanitari piuttosto che strutture e abbiamo chiaramente diversi dispositivi, infatti io dico sempre, la sanificazione ha un po' un largo raggio, nel senso che abbiamo diversi dispositivi proprio a seconda delle necessità, delle esigenze, degli spazi, è chiaro che noi ci rivolgiamo anche al privato perché, giustamente, ascoltando e leggendo anche le notizie, il maggior, diciamo, la maggior diffusione del virus sta avvenendo proprio nelle abitazioni e quindi è chiaro che ci rivolgiamo anche al privato, anche qui diversi dispositivi, non abbiamo solo il generatore di ozono, per cui abbiamo anche altre soluzioni per un uso domestico, quindi che anche qui va a prevenire, a cercare di pulire quest'area perché poi noi ci rivolgiamo da sempre in realtà anche a privati che hanno allergie, che soffrono di, comunque sia, problematiche relative a quest'area non proprio pulita, per cui in realtà abbiamo dispositivi anche da prima di questo Covid. Però sì, la risposta è sì, nel senso che i nostri dispositivi di sanificazione sono rivolti sia al privato che al diverso dal privato, quindi la struttura. Bene, per cui diciamo che siamo nell'ambito del miglioramento di quello che è la situazione casalinga, no? Per cui anche tutto il resto, perché adesso non focalizziamoci solo sull'ozono, ma anche tutto il resto, le poltrone relax, i letti che abbiamo detto, i montascale, servono per rendere ancora più confortevoli, in certi casi anche praticabili, perché ci sono situazioni nelle quali potrebbe essere proprio complicato viverci in una casa costruita in un certo modo, magari su due piani o cose del genere, all'insorgere di difficoltà motorie, per esempio. Allora, praticamente l'idea è questa, noi abbiamo una nostra casa e questa casa vogliamo renderla ancora più confortevole o comunque vogliamo risolvere un problema che abbiamo e ci rivolgiamo a voi. Come lo facciamo? Sì. Ti telefoniamo? Allora, anche. Allora, noi diciamo che come approcciarsi a noi, ci sono diversi canali, ci si può approcciare magari con una mail, perché chi ci chiama magari ci vuole contattare da un pochino più lontano, oppure telefonicamente, oppure si rica direttamente anche in sede. Noi abbiamo un bellissimo showroom dove abbiamo, diciamo, quasi tutti i prodotti esposti, per cui chi è vicino a noi, che appunto, ripeto, siamo a Calcinelli, in Colli e al Metauro, ci raggiunge facilmente il negozio in modo tale che può sia vedere che provare i nostri prodotti. Poi noi lavoriamo tantissimo con la consulenza gratuita a domicilio, per cui una volta contattati ricontattiamo la persona per un appuntamento senza impegno, però secondo noi, ecco, dare la conoscenza, un consiglio, una consulenza per anche far capire magari all'utente che ci possono essere diverse soluzioni, per cui, ecco, magari si pensa ad una precisa soluzione, poi magari ce ne sono tante altre a cui l'utente magari non ha pensato, magari anche più semplici o più così, più pratiche, ecco. Mentre parlavi andavano in onda delle immagini legate, per esempio, a dei riabilitatori, per magari post-traumatici, per cui dei modi per fare ginnastica semplice, per ricominciare ad avere mobilità alle braccia o alle gambe e soprattutto mi ero fermato un attimo riflettendo sul vostro showroom, che è probabilmente il modo migliore di capire qual è il vostro argomento e anche di vedere proprio gli oggetti, i prodotti, anche perché poi sono cose che vanno messe dentro casa. Per cui uno deve fare i conti anche con le dimensioni, con gli spazi, con gli ingombri, per cui mai come vederlo direttamente aiuta a capire se è proprio quello che fa al caso personale, no? Sì, secondo noi in questo periodo, diciamo, in questo periodo, insomma, ecco, diciamo che siamo molto dominati da internet, che va benissimo, bellissimo per tantissime cose, perché anch'io sono utente, diciamo, che acquista su internet, però secondo noi il contatto umano, la consulenza, la dimostrazione, la prova soprattutto di determinati prodotti come appunto dispositivi medici, i servizi o clienti, l'assistenza diretta, secondo noi sono, anzi, forse oggi assumono ancora più importanza, perché il privato, e come dico io, il diverso da privato, ipotizziamo una struttura, secondo me è importante che trovi una persona fisica con cui parlare, nel pre-vendita ma soprattutto nel post-vendita, perché se un utente finale ha bisogno, perché ha un problema con il prodotto, oppure una situazione in famiglia è cambiata all'improvviso, secondo noi c'è bisogno di un qualcuno che fisicamente trovi, che ti consiglia, che anche nel dopo acquisto ci siamo, è importante, quindi bene internet però. Lo scopo di queste nostre trasmissioni, a parte il filo conduttore che si sta sviluppando nel tempo anche senza un ragionamento iniziale mirato a questo, è del filo conduttore della passione, cioè le persone che stanno venendo a questa trasmissione hanno, e rivelano una grande passione per il loro lavoro, e questo è un filo conduttore importante, e uno degli scopi di questa trasmissione è quello di far capire che appunto dietro un marchio, dietro un'azienda ci sono delle persone vere, allora per essere chiari, se voi telefonate a Jolly Casa avete quante possibilità, 99% di possibilità che vi risponda Eleonora, perché lei è anche al front office e anche appunto al contatto clienti, e questo secondo me è un'altra cosa bella da sapere, perché uno che ci ha seguito in questo momento in trasmissione, a questo punto sa che dall'altra parte c'è qualcuno che ha speso questo tipo di parole, ha preso questo tipo di impegno davanti a delle telecamere e è tenuto a mantenerlo, e vi posso garantire che insomma le premesse ci sono tutte, perché queste cose vengono appunto mantenute. Questo perché proprio come dicevi prima, quando uno si trova magari in difficoltà, perché la situazione casalinga è cambiata, ha bisogno che dall'altra parte ci sia qualcuno che lo capisce, qualcuno che parla la sua lingua. Ecco, questo è l'argomento secondo me importante, che fa la differenza, e questo credo che sia dal punto di vista promozionale la carta più forte da spendere, secondo me, perché c'è veramente tanto bisogno di sapere che dall'altra parte c'è qualcuno con cui poter instaurare un rapporto e poter parlare. Poi dopo voi come funziona? Portate a casa, ce la consegna, commercialmente, chiudiamo perché poi il tempo è letteralmente volato, però ecco, chiudiamo dal punto di vista commerciale, facciamo capire bene. Allora, ho un tipo di esigenza, vado sul sito di Jolly Casa o sulla pagina Facebook, capisco che il panorama dei prodotti e degli articoli proposti può fare al caso mio, vi contatto telefonicamente, a quel punto cosa succede? Allora, a quel punto una volta che appunto l'utente ci ha contattati, noi fissiamo un appuntamento o in sede o presso il domicilio o presso la struttura appunto, e quindi diciamo di persona andiamo a capire qual è l'esigenza. Noi lavoriamo tanto col personalizzato perché secondo noi ogni persona è diversa, quindi va da sé che ognuno di noi ha un'esigenza diversa, e il bello sta proprio in quello, nel darti un po', io dico, mi fa bello dire un abito su misura, quindi il tuo prodotto, fatto come ti serve, il tuo servizio e poi chiaramente ci pensiamo noi alla consegna a domicilio, per cui la consegna, la spiegazione e poi l'assistenza è a vita. Noi siamo da 33 anni a calcinelli, ripeto, quindi io dico sempre clienti, noi siamo sempre stati qua, quindi se avete bisogno siamo qua, il telefono ce l'avete, il sito internet c'è, quindi siamo questi, per cui la serietà, la competenza, il supporto al cliente sono le basi per noi. La garanzia migliore, sicuramente che qualcuno si possa aspettare, perché è ovvio che poi un altro dei timori che c'è sempre è ok chiamo, oggi mi portano un prodotto, poi domani ho un problema, non ci sono più, l'azienda ha finito, non è più disponibile, eccetera, invece questa è proprio una bella garanzia. Bene, allora noi se non hai altro da aggiungere ti ringraziamo, ti ringrazio. No, parlerai in altruorita però so che è terminato. Anche noi, ma c'è già Antonino Di Gregorio che scalpita, scalpita un po', facci vedere come scarpita, non lascia stare, e qualcuno avrà notato che qui sul tavolo ci sono già dei libri, perché fra un po' parliamo di libri, intanto noi ringraziamo grazie a voi, grazie Paolo. Grazie per essere stata con noi. Grazie mille, grazie. Grazie. E allora facciamo entrare a questo punto Antonino Di Gregorio, annunciatissimo, che arriva arriva giustamente con il biscottone città che legge. Stanno mettendo qua così il logo ci vedo più stesso. Sì, e tu mettiti più centrale perché abbiamo bisogno che la inquadratura sia perfetta. È troppo ciccio per questo divano. Ma non ti preoccupare, no, c'hai un divano intero, c'hai un divano intero, meglio di così. Allora, vicino al microfono, bene, buongiorno Antonino, buongiorno Anto, come ti chiamo io. Tu sei nato l'11 aprile, vuoi sapere cosa dice il libro personologi? Se vuoi, tanto lo so che prima o poi mi avresti detto questa cosa. Allora, guardiamo il libro personologi, poi dopo ti presentiamo un po' meglio. Il giorno dell'abilità politica, pensa un po', l'11 aprile, che è un giorno strano. I nati l'11 aprile non hanno un bisogno imperioso di stare al centro dell'attenzione come molti altri nati nel periodo ariete 2. Quando lo sono non è mai per ambizione ma per essere utili al prossimo. Bravo, bravo. Che bella questa cosa. I difetti quelli sono quelli che mi interessa di più. Allora, aspetta, i pregi sono deciso, diplomatico, sagace. Andate a cercare sul vocabolario cosa vuol dire sagace. Non so neanche cosa voglio dire io. Hai un pregio che nessuno sa neanche cosa vuol dire, appunto. E nei difetti, insensibile, non è possibile. Portato a opporre resistenza, privo di entusiasmo. Anto, ti ha fatto un macello, non sono io, parla di un altro. Non va bene, parlava di un altro. Allora, no, perché non è l'Antonino che conosciamo, che invece è persona attivissima, pesarese di adozione da 11 anni, pesarese di adozione e che conosce Pesaro quasi meglio di tanti pesaresi. Mi piace molto questa città, ci sono venuto a vivere, quindi mi piace molto. Quando sono libero la giro da turista, quindi questa cosa mi piace un sacco. E quello succede a quelli appassionati che scelgono un posto, succede che poi apprezzino e conoscano quel posto meglio di quelli che non l'hanno scelto perché semplicemente ci sono nati. Adesso non ho l'ambizione di dire meglio. No, no, diciamo diverso. Meno tanto quanto. Esatto, tanto quanto in maniera approfondita. No, 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 molto bene, molto bene. Allora, Anto, qui siamo oggi a parlare. Hai portato Pesaro, città che legge, che lo facciamo rivedere con Cleanator per via di Babbo Natale. Hai portato questo, hai portato un po' di libri perché siamo qua appunto per parlare di libri. Se è vero, come dicono tutte le statistiche, tutti quanti, che il libro è il regalo per antonomasia di Natale, poi dopo bisognerebbe scoprire. Primo, cosa vuol dire antonomasia? Se vuoi c'è un elencone. Come sagace. E come sagace. Antonomasia è bellissimo. Poi è Antonio, io c'ho Antonino. Antonio è una figura retorica utilizzata con diverse funzioni e scopi. Per esempio, per antonomasia se te dici, non so, è un vero Attila, te usi il nome di Attila sapendo che Attila era distruttore, per dire che quello è un distruttore. Questa è l'antonomasia. Da oggi saprò leggere meglio un'antonomasia. Esatto, il regalo per antonomasia, anche se poi io aprirei un'inchiesta un giorno, non lo so se la faremo mai, su quanti dei libri regalati vengono veramente letti, almeno letti prima di finire in qualche mercatino. Questa è una cosa della quale io e te parliamo spesso. Eh, ma infatti. Poi ci sono dei libri dei quali si sente, non facciamo né nomi né cognomi né titoli, dei quali si sente sempre, l'ho comprato per regalarlo, e io non ho mai conosciuto nessuno che abbia letto quel dato libro che è stato comprato per essere regalato. Esatto. Quindi quella roba lì, eh, rimane un po' così. Io mi autoaccuso di essere uno di quelli che comprano libri e poi non fanno in tempo a leggerli. Infatti una volta mi sono anche scritto una specie di monito personale che è, attenzione, comprare un libro non è uguale a leggere un libro. No, è inutile che ne compri dieci, li metti lì sul comodino, come se li avessi letti. Assolutamente sì, e poi come diciamo sempre noi, la coda di coloro ai quali piace leggere, di libri da leggere, ce n'è sempre troppi. Ce n'è sempre troppi, anche perché, come diceva, non mi ricordo più chi gli iscritti, ah no, era Troisi, che diceva, quelli che scrivono sono tanti, io che leggo sono da solo, insomma, non è facile stare dietro. Eppure parlando dell'Italia, come ci siamo detti già tante volte io e te, in Italia vengono pubblicati circa 165 mila titoli nuovi all'anno, eh vabbè, ma quanti ne leggi in un anno? Eh, appunto, insomma, per quanto il lettore forte in Italia sia considerato uno che legge un libro al mese, che già fa ridere di suo, e un libro al mese sarebbero 12 libri all'anno, in Italia è classificato il lettore forte, per quanto esistono dei veri lettori forti, che superano i 50, arrivano a 100 e tutto, però insomma in confronto a, quanti hai detto prima, 165 mila titoli nuovi all'anno. Quindi ci sono poi i ristampati, Esatto, No, ma poi ci sono anche quelli dell'anno prima, non è che quelli li buttano via, Allora, Anto, noi abbiamo già rubato 5 minuti, Un sacco di tempo. Però, però, no, no, però è molto piacevole, molto piacevole, parliamo di libri appunto intesi come regalo, e prendiamo come spunto l'idea della classifica, no? Le classifiche dei libri sono quelle che vengono, mi dicevi che ce ne sono tre in qualche modo riconosciute, Li ho portati a posta. Tre un po' riconosciute come quelle ufficiali. Allora, questi sono gli inserti, sono gli inserti che tutti i lettori conoscono, tutto libri, inserto della stampa, la lettura, inserto del Corriere della Sera, e poi Robinson, inserto della Repubblica. Tutti questi, questi tre sono quelli che, in Italia vengono considerati, quelli che ci dicono, chi veramente com'è la classifica settimanale. Dopo, chiaramente ci sono classifiche di tutti i tipi. Esatto. Ci sono classifiche tematiche, ogni libreria ha la sua classifica, ogni gruppo ha la sua classifica, ogni e-commerce ha la sua, però noi abbiamo deciso di scegliere una, mica possiamo correre dietro al mondo. Soprattutto perché queste tre, in particolar modo, si assomigliano sempre tanto, perché se giustamente devono essere la classifica ufficiale dei libri più venduti, diciamo che nove su dieci sono simili, e sempre più o meno nella stessa supposizione. Io però, come tu sai, ne parliamo spesso, io e te ci confrontiamo spesso sui libri, ho portato un po' di libri, ne ho portati tre della classifica, perché tanto, come dico sempre, la classifica si vende da sola, anche perché c'è quel meccanismo strano che entri in libreria, e vai subito a guardare la classifica, se questi sono stati venduti, vuol dire che sono belli, se sono belli è il caso che io li compri, e quindi vai lì, e la classifica si vende da sola. Quindi ho portato tre libri della classifica, perché insomma, perché non farlo, e soprattutto perché ci eravamo detti di parlare di libri da regalare, e visto che a dicembre ci si regalano un sacco di libri, molti non sanno che libro regalare, vado a guardare la classifica. Esatto, e tra l'altro la classifica ovviamente si autoperpetua, perché uno guarda la classifica, compra il libro perché è in classifica, e il libro continua a rimanere in classifica. È uno di quei classici casi in cui il misuratore condiziona l'effetto, per cui ci sarebbe da fare anche lì una bella indagine. E poi il passaparola, perché per esempio è successo un caso, un caso che cito, non è tra questi libri, Stefania Auci, con il suo ultimo libro, che è stato un caso letterario, che è stata in classifica per 52 settimane, perché è stato uno dei libri più letti in assoluto di questo anno, e continuava a rimanerci. Passava dall'alto al basso della classifica, ma continuava a rimanerci. Quindi questa cosa che tu dici è assolutamente così. È così. Però per fare entrare qualche libro in classifica bisogna proporlo quando ancora non è in classifica, e in quel modo, rifacendosi all'autorevolezza del commentatore e del suggeritore, noi a questo punto cerchiamo di avere qualche dritta anche un po' diversa. Però, visto che abbiamo parlato tanto di classifica, citiamoli tre della classifica. Ne ho portati tre molto diversi tra loro, e sono uno, il primo che vi cito, vabbè, Zero Calcare, conosciutissimo, sappiamo tutti chi è, però ha scritto un libro diverso dal solito, con un formato diverso dai suoi soliti, ed è A Babbo Morto, e questa cosa qua già mi fa ridere solo dal titolo, è Una storia natalizia in stile Zero Calcare, quindi è un graphic novel come ci piace dire oggi, è un fumettone come dico io, e parla di una storia ambientata a casa di Babbo Natale, diciamo così, ma non vi dico nient'altro perché comunque se lo volete leggere le librerie sono aperte, potete andare, quasi tutti fanno consegna a domicilio, quasi tutti fanno consegna a domicilio, diciamo, o comunque le spedizioni, quindi andate nella vostra libreria, non avete l'alibi, e soprattutto sono partito con un libro che non è sicuramente un genere tra quelli che io prediligo perché in effetti di graphic novel ne leggo poche, ma lui ci sta, è in classifica e quindi lo nominiamo. Zero Calcare, lo ricordiamo così per quei pochi che non lo conoscessero, è uno dei più acclamati disegnatori e non solo, raccontatori appunto di storie, viene anche chiamato come opinionista, è una persona molto attenta ai fatti del mondo e di conseguenza ha una cume speciale che sviluppa attraverso queste graphic novel ma anche attraverso vignette, attraverso ospitate, insomma cose di... per il modo in cui che ha di raccontare le cose e anche a volte truci. Altro libro in classifica molto diverso dai suoi soliti ed è questo ed è Gridalo di Roberto Saviano uscito da un paio di settimane e ovviamente è lì che stazione secondo me ci starà per qualche settimana ancora. Gridalo è un romanzo che racconta la storia di un ragazzo che a un certo punto torna, un uomo che torna davanti alla sua vecchia scuola e si riproietta nella sua età di quando era appunto adolescente e dice ma se io avessi fatto scelte diverse se io non avessi avuto quegli esempi che in effetti ho avuto e parla un po' di personaggi storici quindi i vari capitoli sono dedicati ognuno a personaggi storici diversi tra i quali Martin Luther King Goebbels nel bene e nel male e molti altri interessantissimo da leggere io per il momento sono arrivato solo all'inizio per cui non so dirvi fino alla fine ma io lo comprerei lo regalerei ma soprattutto lo leggerei già solo sto fatto che mi hai parlato di un'ipotesi del bene di Goebbels già mi vengono delle curiosità voglio dire bene e male e bene e male riuscire a trovare del bene da Goebbels insomma vedo un po' e poi è arrivato due settimane fa in libreria ed è ovviamente arrivato al numero uno dei libri più venduti questo credo su questo ci sia poco da dire nel senso che comunque è la biografia scritta autobiografia scritta da Barack Obama e racconta il suo personaggio quindi dai suoi inizi dall'università fino ai primi passi politici fino a quello che poi ha fatto ed è corredato anche di qualche bella fotografia si intitola Una terra promessa parlerà anche di Bruce perché Promise Land è una delle canzoni top di Bruce Springsteen di Barack Obama ricordiamo una citazione nella quale appunto dice volevo essere Bruce Springsteen non potendolo fare perché c'era già e sono diventato presidente degli Stati Uniti questo non lo sapevo bello molto bello mi sono accontentato ho detto purtroppo non potevo essere il boss sono il presidente degli Stati Uniti allora poi invece ne ho portato uno che anche questo l'ho appena portato a casa ieri e quindi non l'ho ancora iniziato ma lui per me è assolutamente una garanzia ed è lo scrittore di thriller italiano più riconosciuto al mondo cioè lui è pubblicato e tradotto in 30-40 lingue è diventato diciamo il colui che ha preso il testimone da mamma mia Giorgio Faletti tra le altre cose un aneddoto su questa cosa che se vuoi poi ti dico dopo perché non facciamo sapere gli spettatori no non è vero è televisivissimo comunque lui è Donato Carrisi io sono l'abisso è il suo nuovo romanzo e lui è lo scrittore di thriller che di più parla di Italia al mondo nel senso che è il thriller italiano del mondo né più né meno ed è tra le altre cose uno dei miei scrittori di thriller preferiti quindi l'ho portato perché l'ho portato e tu dici e beh quindi perché è sicuramente uscito questa settimana settimana prossima sarà in classifica facile premonizione tra l'altro Di Carrisi se non sbaglio tratto da un suo romanzo in questi giorni sta girando su Sky un film non mi chiede i titoli La ragazza nella nebbia esatto La ragazza nella nebbia ma poi anche L'uomo del labirinto quello con Dustin Hoffman e Servillo che sono tutte e due ovviamente due due suoi bestseller lui nasce come sceneggiatore quindi in questo caso poi si è cimentato anche come regista quindi ha fatto tutto lui è un egoista Non ci crederai ma abbiamo poco più di due minuti Allora faccio velocissimamente e allora vado con gli altri suggerimenti al volo Allora questa sera tra le altre cose avrò ospite per la pagina di Pesaro Città che legge una presentazione online e quindi chi non ha ancora messo il like alla pagina di Pesaro Città che legge vada subito a farlo Giusto Ricordiamo che Ricordiamo che Rossini TV fa parte dei firmatari del parto di Pesaro Città che legge Esattamente anche io come Parole d'Arancia anche di Vulgare eccetera eccetera e questa sera avrò lui Riccardo Gazzaniga un po' come il libro di Roberto Saviano Come fiori che rompono l'asfalto racconta di tante persone che hanno fatto un gesto che li ha resi quasi degli eroi agli occhi di tutti e infatti come fiori che rompono l'asfalto l'asfalto perché hanno rotto quella catena di indifferenza diciamo così e lui ci sarà oggi quindi se volete saperne di più oggi in diretta su Pesaro Città che legge scusami se faccio un po' di promotion va fatta ragazzi siamo apposta qui Riccardo Gazzaniga poi se vi volete divertire perché fino adesso abbiamo parlato solo di libri seri se vi volete divertire Francesco Muzzo Pappa Un uomo a pezzi e anche questo questo è un libro lui a me piace molto quando venne tre anni fa qui a Pesaro per una presentazione gli dissi che a me ricorda molto il Fantozzi cioè o meglio scrive in uno stile che è quello del Fantozzi di una volta cioè ti fa ridere di te stesso e quindi tu non ti accorgi che sta prendendo in giro te ma ridi e allora va bene e questo qua nell'uomo a pezzi racconta un po' la sua biografia in mini racconti mini aneddoti di cose che sono capitate ad un uomo pugliese trapiantato in Lombardia che vive questa Lombardia come una cosa strana ma poi ci si abitua e quindi un uomo a pezzi di Francesco Muzzo Pappa ultimo ma non ultimo perché gli altri non facciamo in tempo e quindi lasciamo qui sul tavolino lasciamo a vista è uscito da qualche giorno il nuovo romanzo Fiaba di Natale quindi più regalo di questo di Simona Baldelli a me le piace Simona Baldelli oltretutto pesarese quindi pubblicata da Sellerio con questo suo secondo nuovo romanzo pubblicato da Sellerio e la Fiaba di Natale quindi già solo il titolo è un regalo è già sotto l'albero il titolo e il libro solo per il titolo ma la storia che io ho appena iniziato quindi anche in questo caso non vi so dire come va a finire ma vi so dire che inizia e prende subito dalla prima pagina racconta come nella fotografia nell'immagine della copertina di un uomo che decide di attraversare su un filo posto a un sacco di metri di altezza praticamente un paese cioè dal campanile della chiesa fino al palazzo a un palazzo che è molto lontano non mi ricordo se il comune o una struttura del genere e praticamente attraverso questa storia molti cittadini vorranno andare su con la greu a dire ma perché stai facendo questa cosa è pericolosissima ci racconterà la vita di tutti noi che non raccontiamo a tutti ed è molto interessante abbiamo vissuto un'esperienza di questo genere molti anni fa non tantissima 5-6 anni fa perché alla mezzanotte bianca dei bambini c'è stato un funambolo Loreni che aveva attraversato tutta piazza del popolo camminando su un filo teso dal palazzo del comune al palazzo delle poste ed è emozionante che solo vederlo mi immagino lui lì sopra che lo fa Anto dimmi il tempo è volato come sempre anzi abbiamo anche leggermente sforato io non so perché è allegra che tiene il calendario non so se riusciremo a trovare un altro spazio prima di Natale per raggiungere qualcos'altro mi segno i libri di cui ho parlato così non riporto gli stessi esatto magari esatto mi auguro che voi abbiate preso tutti gli appunti perché questa indicazione è preziosa per i vostri regali di Natale e allora a questo punto ci siamo io vado a ripercorrere tutto quello che ci siamo detti in mattinata e per non sbagliare vado a recuperare il foglio iniziale per ricordare a tutti che sul salotto di Casa Rossini oggi sono stati con noi Maurizio Dini fondatore e titolare Midor e Leonora Raffaelli socio e responsabile comunicazione di Jolly Casa ed è qui con me e lo saluto in questo momento Antonino Di Gregorio consulente editoriale parole d'arancio coinvolto in Pesaro città che legge appassionato di libri pesarese di deduzione eccetera eccetera grazie a tutti voi ci vediamo in diretta per la puntata di venerdì ma naturalmente questa puntata viene replicata negli orari ormai consueti e di conseguenza ci potete rivedere anche fra qualche minuto in replica diretta immediata sulla pagina facebook grazie a tutti buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti